Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. In A11 perdita di carico accidentale tra Lucca Ovest e l'allacciamento con la 12 a Pisa in direzione Pisa. Sulla Grossetofano, finale 18 di oggi pomeriggio, scambio di carreggiata per lavori tra Alberoro e Monte San Savino in direzione Monte San Savino e chiusura delle rampe in entrata e in uscita dello svincolo di Montagnano. Per quanto riguarda le statali, sulla Aurelia lavori tra Grosseto Est e Grosseto Sud in direzione Roma e tra Donoratico e Cecina Centro in entrambe le direzioni. Sulla Trebis Tiberina lavori di manutenzione tra Val Savignone e San Carlo in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!